Il Cineteatro Don Bosco con il patrocinio del Comune di Bova Marina presenta Pro Scenio, stagione teatrale 2015-2016. Direttore artistico Giacomo Battaglia è aperta la campagna abbonamenti. Per informazioni visitare il sito www.cineteatrodonbosco.info o telefonare al 388 92 36 509. Primo appuntamento martedì 8 dicembre ore 21. Gennaro Colabrese in Italia vista da mille voci. Ma secondo voi veramente qualcuno dell'Ulivo gli ha messo le mani addosso? Ma quella era l'unica extravergine dell'Ulivo secondo me esistente. Perché non si può altrimenti dire no?